buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina buonasera ragazzi buonasera ragazzi buonasera ragazzi il primo pullo di ruffi gauda ovviamente colione giallo uscito dal nido lui si è lanciato vedete i primi voli si a citit coloro virada in purezza un bagate uno dei druini ad iscriveri un sottotitolo un sottotitolo inginiamo un sottotitolo un sottitolo un sottitolo un sottitolo iniziare